Buongiorno, buongiorno, come state? Tutte bene? Spero tanto di sì. Oggi è venerdì, buongiorno, sono Arianna, questo è il caffettino con Arianna. Appuntamento quasi quotidiano adesso, un po' di pene dalla pioggia ultimamente, in cui, insomma, si parla un po' di tutto in questo periodo, di solito di Sferruzzo. Allora, ho finito, però ve lo farò vedere lunedì, perché adesso ho finito il mio maglioncino di cotone color burro. Sì, sono abbastanza contenta, adesso vediamo, ecco, vediamo perché vi ricordate, non sapevo se metterlo davanti o dietro, cioè se farlo, cioè con la maglia rasata dentro o fuori, insomma. Adesso vediamo, ecco, ieri sera l'ho lavato, adesso ho guardato stamattina, era quasi asciutto. Quasi asciutto, perché non so, adesso la luce, voi non la vedete. C'è freddo, è ritornato il freddo, è un freddo della Madonna, 16 gradi, dai 12 ai 16 gradi. Cioè, due o tre giorni fa c'erano 31, quindi sì. Comunque mi ha detto, mi ha detto anche Giuseppina, mi ha detto che anche dalle sue parti c'era freddo dove si è dovuto mettere il berretto, quindi insomma, vabbè, la smetto di lamentarmi. Penso che quest'anno veramente sia stato un anno tremendo per, sotto moltissimi punti di vista. Anche il tempo ci si mette. Allora, tra l'altro sì, come Martino, come tantissime altre che vedete, io sono meteoropatica proprio. Cioè, quando i primi sei mesi che ho fatto in Inghilterra mi veniva da piangere, veramente. Avevo sempre mal di testa. E' vero che ci sono anche andate durante l'inverno. Sì, però insomma sì, mi mancava tanto la luce, perché magari, anche se ci sono delle belle mattine fredde in Italia, magari hai questo bellissimo sole, anche se c'è tutto freddo e timbacucchi, e vabbè, è così. Invece lì, appunto, il Devon è vicino alla costa, vicino all'oceano, e quindi sì, è molto umido. Ecco, non è freddissimo, anzi, io direi che il Devon c'è quasi una monostagione. Ultimamente le stati sono state molto calde, c'è ultimamente negli ultimi due o tre anni, quindi da quando mi sono andata via, insomma, tanto così. Però sì, però c'è stato, però l'inverno non è troppo rigido, infatti aveva ancora fiori, gerani, bellissimi durante l'inverno. C'è sempre così, però c'è sempre un po' di grigio, c'è un po' di umidità. Sì, quindi sono metereopatica a buso, diremmo, in Veneto, non so perché. Sono tutta a Veneto oggi. E niente, allora, prima di iniziare, volevo scusarmi, ma veramente scusarmi tantissimo, mi sono dimenticata di aggiungere il nome di Patrizia Marin nella lista dei podcast italiani. Ma a me, cioè, se voi mi aveste chiesto, l'avete messo, ci scommetti dei soldi. Dico, ma certo che ce l'ho messo. Non ce l'ho messo, scusami Patrizia, scusami, scusami, scusami. Comunque ne avevo già parlato, Patrizia è una di quelle podcastatrici che mi fanno tanta, tanta compagnia. E andate a vedere, io spero tanto, mi aveva quasi detto che voleva fare un video, speriamo di sì, che così durante... Vabbè, io da lunedì prossimo me lo scarico, perché durante il weekend non ho accesso a YouTube. E così, quindi scusami. Tra l'altro, altri podcast... Me li sono scritti qua. Non so se... Perché adesso mi sono appena accorta, infatti, che mi mancano dei commenti, cioè che magari... Non so come faccio a cliccare... Cioè, dovrei essere capace. Mi sono sfuggiti dei commenti anche molto belli, e quindi mi dispiace. Quindi, io adesso intanto vi dico questi... Questi podcast che voi tutte mi avete... Che mi avete consigliato, e che... Tra l'altro che li conoscevo, cioè no. Questo no, Beagle Nits no. Però Fiber Tales è fantastico. Lei è bravissima. Poi sapete questo scandistaio, che mi fa veramente impazzire. E poi lei ha questa voce molto bella. Cioè, le darei un pugno, perché continua... Non parlo molto bene in inglese. Veramente, considerando che... Parla benissimo in inglese. Quindi Fiber Tales, bellissima. Lei è bellissima, tra l'altro ha pubblicato. Penso che pubblichi... Adesso da un po' che non lo vedo, però mi ha fatto ridere che proprio adesso è venuto fuori una sua... Sapete, nelle subscriptions... Non so come si chiama in italiano. Nelle subscriptions appena venuto fuori lei. Quindi... Telepatia. E questi qua sono due francesi, che ci piacciono molto. Triple... Triple... Elle. De Mag. Lei si chiama Magdalene. E penso che abbia iniziato anche lei, si... Elisabetta me l'aveva detto, che abbia iniziato anche lei a vendere dei modelli. E poi Lola Panda Liss. Ce ne sono tantissimi altri, però questi intanto li ho aggiunti. E in spagnolo Beagle Meets. Tra l'altro qualcuno mi ha detto anche che lui è italiano. Non lo so, mi sono scaricata il video un paio di giorni fa e adesso lo devo guardare. È che avevo una fila di cose... da guardare. L'altro libro... Ops, lo scrivo qua. Adesso mi sembra di fare lezione. Perché con Zoom se... faccio meglio così che non condividere la lavagna, perché mangia troppo a internet. E si chiama The Green Bean. The Green Bean. E questo qua è questa qua inglese di cui qualcuno mi ha chiesto. Ed è vero che io... So The Green Bean Podcast. Lei si chiama Katie Bean. E vive in Devon. Tra l'altro è questo il podcast che ho guardato. Ed era bellissimo. Tra l'altro è una passeggiata che facevamo sembra anche noi quella lì. Vabbè. È molto molto bello. E poi lei è carinissima. Un'altra che ha questa voce carezzevole, questo un fare molto semplice. A me piacciono molto queste qua che sono molto semplici. Dipende. Perché a volte ho voglia... Ci sono dei podcast che seguo che sono molto briosi. Cioè... E ridono. Quindi se sono nel... Se ho voglia di farmi anch'io quattro risate così, però ci sono dei momenti in cui magari non mi sento... Sì, mi sento un po' giù così. E questi podcast che sono molto... equilibri... 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 Ti restituiscono l'equilibrio. Oh, e poi... Guardate questo che l'avevo scritto. The Great Sewing Beat... Io ho un modo di scrivere che è tra l'inglese e il francese. Tra l'inglese e l'italiano la mia calligrafia ormai. Vabbè. The Great Sewing Beat... Era un programma un po' come il Bake Off, ma è in... Per il cucito. Quindi ci sono tutte queste sarte che hanno dei compiti diversi, che hanno dei tasks, delle sfide diverse. E lo trovo molto bello. The Great British Sewing Beat è la sesta stagione. Io so che di solito si trovano le stagioni vecchie e si trovano anche su YouTube. Quindi basta solo cercare. ed è bellissimo. Naturalmente in inglese. Mi dispiace. Non so se potete mettere dei captions o se potete semplicemente guardare perché è veramente... Cioè, l'editing è molto interessante. Quindi fanno sempre vedere delle cose molto belle. Tra l'altro, nella prima stagione se voi cucite e siete un po' addentro agli indie pattern makers, alle case di produzione... Cioè... tipo quelli che fanno i modelli indipendenti. Tilly and the Buttons che è una tra le più, insomma, che è abbastanza famosa inglese, eccetera, eccetera. Era nella prima stagione. Quindi... molto, molto interessante. Cioè, è molto interessante quel programma. Ok, adesso ve l'ho detto che è molto interessante dieci volte. Magari potrei parlare d'altro. comunque... Sì... Allora... Gli ho detto tutto. C'erano delle cose che volevo dire? Un po' mi sono dimenticata. Aspetta, bevo, magari... Magari mi ritorna in mente con un po' di idratazione. Un po' di calore anche che mi manca. Allora, io qua leggo... Perché, ma guardate, un bellissimo messaggio. Una persona... Passa... Intanto c'è una persona che mi scrive... Oh, avrei dovuto scrivere i nomi. Sono così dura. Leggetemi i commenti. C'è una ragazza che scrive... È di Viterbo. Ma perché non me lo ricordo? Vabbè, adesso non c'è... E che scrive questi commenti bellissimi. È come leggere un romanzo. Quindi, quando arrivo a scuola la mattina li leggo e mi sento tutta felice. E grazie mille. Poi mi piace che ci sia proprio un dialogo anche tra di voi visto che abbiamo tempo. E Claudia... Claudia mi ha scritto sul cibo... Lei che è appassionata della Cina. E mi ha scritto del Durian. cioè il Durian è un frutto molto strano che si trova in tutta l'Asia sud-occidentale Southwest Asia e... Southeast Asia che devo? Sud-orientale scusatemi. E si trova... Il Durian è un frutto che puzza ma puzza di vomito. Cioè è una cosa che è immonda. Però è considerato il re dei frutti. e... ma puzza è una cosa è una... cioè infatti su... negli hotel c'è scritto di solito prendi una multa se ti porti il Durian in camera per tipo ora c'è la foto ma anche sulle metropolitane anche a Bangkok sulla metropolitana c'è negli hotel c'è il Durian e... puzza una cosa è immonda 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 però quando lo mangi è uno è un frutto molto grande così tutto spinoso poi ha questa polpa bianchissima o no scusa non bianchissima giallina adesso sto pensando un altro frutto giallina ed è quando lo mangi tappandoti il naso è vellutato ti sembra di mangiare una crema ed è dolcissimo però ragazzi sì prima di metterlo in bocca vi dovete tappare il naso è una cosa orrenda comunque se andate in ferie magari da queste parti all'altro costicchi anche aspettate che magari vi faccio vedere una foto in durian è questo qua aspettate facciamo così visto che abbiamo questa qua è la foto del durian quindi ci sono questi spicchi giallini ed è veramente una cosa orrenda si chiama anche duck fruit quello è il king è il re dei frutti adesso vi faccio vedere uno invece di frutto che è buonissimo mangostina mangostina penso ed è una cosa buonissima questa qua sembra quasi un caco come forma e ha sempre questa pelle abbastanza dura poi quando la apri ha questi hanno questi segmenti bianchi una cosa buonissima ecco mi sono venute le bave vi giuro è buonissima eccolo qua vedi cosa fai a parlare di cibo se per caso venite in Southeast Asia se venite da queste parti o così magari le trovate anche in supermercati ormai si trovano un po' tutto buonissima buonissima ok grazie Claudia per avermi ricordato di questo effettivamente non me lo ricordavo e poi lei diceva anche adesso gli gnocchi di riso gnocchi di riso non li ho mai provati e potrei anche provarli il fatto è che non parlando cinese è sempre un po' difficile andare a vedere quindi alla fine mangiamo sempre le stesse cose a meno che una volta siamo andati genitori dei nostri bambini perché c'è un bambino in seconda e un bambino in quinta cioè quindi il bambino il maschietto è con me e la ragazza è con Nigel e quindi i genitori hanno voluto a tutti i costi portarci a mangiare con degli altri anche bambini eccetera e ci siamo divertiti tantissimo ma siamo andati in questo ristorante abbiamo mangiato così bene e purtroppo poi è successo quel che è successo però volevamo ritornarci perché veramente abbiamo mangiato benissimo in Cina secondo me comunque c'è ancora comunque una cultura del cibo che è molto proprio innata a loro piace e sì e Claudia ancora così vi parlo anche un po' dei risvolti perché proprio questa mattina ci è arrivata la comunicazione che insomma si riapre l'undici si riapre adesso ho un po' paura sono un po' in apprensione siamo io lo esprimo diversamente perché magari prima interiorizzo tutto perché insomma se ci dicono che dobbiamo aprire dobbiamo farlo cioè non è che mica che ci possano pagare per stare a casa comunque noi abbiamo sempre lavorato in diverse maniere abbiamo sempre lavorato durante questo periodo ma è vero insomma non lavori ne 8-10 ore come facevamo prima ma sì all'undici secondo me comunque la Francia fa un po' paura all'undici perché noi comunque sono tre mesi che siamo a casa effettivamente non lo so lei vive a Parigi mi diceva che aveva un po' paura del discorso dei trasporti e ti do completamente ragione non so anche noi comunque da quando noi abbiamo la fortuna che possiamo andarci in motoretta però effettivamente noi in metropolitana non ci siamo neanche più andati e poi ogni tanto viene fuori che questi qua che sono andati da tipo la settimana scorsa uno starbucks in città non qui vicino a noi comunque insomma 12 km da noi uno dei uno dei camerieri aveva aveva il coronavirus quindi tutti quelli che sono andati durante tutta quella settimana cioè quanti contagi ci possono essere stati adesso c'è comunque un contagio nel nostro residence anche se non è nel nostro blocco quindi è abbastanza distante però cioè boh non lo so comunque prima ci fanno testare tutti ci fanno rifare il tampone che noi ce l'abbiamo appena fatto però molte persone l'hanno fatto quindi insomma quindi sì sono un po' abbiamo un po' paura perché soprattutto con bambini io che ho una una gela una quinta io ho una seconda che sarebbe la prima quindi i bambini di sei anni a dire cioè come si fa a stare lì già devo litigare perché si lavino le mani dopo si è andati in bagno andate a lavarvi le mani mi siete andati in bagno adesso mi metto lì davanti e devo aspettare che devo controllare che tutti si lavino le mani correttamente boh non lo so è tutto un po' magari poi sarà meglio dicono cioè non lo so mi mancano i bambini mi mancano molto venire a scuola la scuola è abbastanza lugubre senza di solito durante la sera quando sei quando hai finito la giornata sei stanca e dici vabbè cioè perché facciamo noi facciamo dalle otto iniziamo alle otto e mezza insomma alle otto devi essere disponibile sei in giardino con loro e dopo finiamo l'ultima lezione alle 4 c'è un club dalle 3 alle 4 c'è un club non sono proprio lezioni tradizionali quindi insomma facciamo comunque un bel po' di ore con loro e quindi la sera quando se ne vanno tutti diciamo che bella la scuola senza bambini però adesso che è un mesetto che veniamo qua e c'è tutto sto silenzio è un po' un po' da fantasma formaggino e così quindi insomma sì capisco Claudia e capisco ce ne saranno tantissime come Claudia che adesso dovranno ritornare al lavoro brutto brutto vabbè dai io spero tanto che sono 18 minuti oggi ho detto non so neanche cosa dico non so neanche cosa dire lunedì vi porto il maglioncino promesso così vi faccio un po' vedere dai allora un bacione un gran con lo schiocco voletevi bene vogliatevi bene state distanti l'uno dall'altro lavatevi le mani così dai ci vediamo un weekend ragazzi un bacione grande e ci ritroviamo lunedì ciao